Ciao ragazzi, questo nuovo video di Gitter5 e allora ecco tu puoi dirlo, non vi preoccupate allora, sarei rimasti nella missione del sottomarino e ora ecco tu sa, per appunto la catena allora, gira, gira ragazzi ho scoperto dove bisogna andare, non bisogna andare a sinistra ma a destra non si vede, eh? e allora ragazzi no 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 no, aspettavo che cazzo è allora, ando sono ah, che da faggioso, hai detto giusto sta andando bene sta andando bene ragazzi ci riesco a stare su perché che sì, perché non vedo una sera giusto, no sto sottomarino di merda già guarda lì come vò ma se la sua so spengere le luci la sua so spengere le luci la sua so spengere, oh figata la tua mi serve alle luci quindi la sua sopra allora assaliamo sono sottofitto almeno la papà sotto marino sotto marino sotto sotto marino ma sale o no ora ragazzi non si vede attenzione non è invisibile ecco il cucù va sotto ora sì l'interno a o più avanti ok dentro qua no 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 allora sono qui ma dopo ancora da andare palle ma o no mi dice di tornare indietro ma io che cazzo non devo tornare indietro uccelli coppia ho visto ho visto l'elicottero capo sottomato porca puttana torni su donna se che se no maestro a io ci si divertono sceglie on the 1 stavolino non dotati non bisogna arrivare mi sa dove c'è quella mega group a sinistra non ci abbiamo quasi fatta spero di arrivare il giusto allora eccoci si ci sono, si si dovevo andare dove da fermare perfetto per avanti fermo ragazzo abbiamo fatto a posto miss più o meno ecco la gala e si dà la azione bestia ti amo che tanto lo so la porta il peso sottomarino in un magazzino partiamo disegno ok non vedo nulla arriva arriva lui bomba come po' no 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 fatto ovvero non ci passa ora preso ma che fa le finte sposo ora presa mi dici basta di riasco cosa non ci basta appena arrivo no ci sono quasi finalmente ho trent'anni e che padre mentre qui e porca mai oh finalmente c'ho da una sola ma non andiamo con la storia 8 l'internet testico di ragazzi palle palle di treddo d'anda signore ai vecchi te pazzo maniamo e comprensione si comprensione missione completata andiamo andò via non tanto di cazzeggio poi passiamo insieme prossima missione sarà questa allora vi faccio questo con la bea berry sarebbe berri 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 leggiamo viaggio mare la stronti e elles qua lì ragazzo ha un missile ma la signora me la spacci pure eh sicuro? sicuro io ti mando a fa un culo eh ma che male l'hai sceso? oh fa botte non ti ovviare metti il tuo antio Trevor io te l'ho detto io te l'ho detto signore 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 deve andare a lavorare lei o può morire ma mi sta un po' lì per terra la tua stanza ma te spacciammezza vai su qua mi trai non su qua mi trai non vai a passare di qua non è che sono un po' lì oddio passiamo vai ti tazzo il mio andiamo teniamo uno spazzo testo 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 momento lui odio che cazzo testo 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 sen testo 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 oh tirando le anni sai che può essere mortale cambiando via mi fa rallenti stanno andando piano andato sento all'ora prena ho aumentato il palazzo densa capivo? sono andato a far culo io sono andato andiamo nessuno ehi ehi no nessuno che cazzo è questo? che filo che filo bella ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e commentato iscrivetevi e lasciate un bel pollice che ci sono i suoi ci becana facciamo ciao ragazzi ciao